Oroscopo del giorno, martedì, 23 gennaio, 2018. Ariete. Nel vostro segno e vi aiutandovi a risanare i rapporti. Nuovi stimoli per i single, in arrivo promettenti conoscenze e nuove avventure. Lavoro, cercate di pesare bene le parole con i superiori, a volte scattate per nulla. Tenete a bada gli impulsi. Toro. Amore, questo martedì non vi regalerà particolari emozioni, in compenso farete di tutto per catturare lattenzione del partner che negli ultimi tempi vi sembra sfuggente. I single faranno nuovi incontri ma non abbastanza interessanti da essere ricordati nei vostri pensieri. Lavoro, sono in vista promozioni e riconoscimenti. Mercurio vi invita comunque a rivedere una scelta o una collaborazione. Gemelli. Amore, più stabilità per i rapporti traballanti, oggi si prospetta unottima giornata per placare le tensioni e gioire di pochi ma buoni momenti in coppia. Le stelle annunciano incontri interessanti per i cuori solitari che non vedono lora di avere un rapporto vero. Lavoro, in arrivo tante novità in campo professionale, alcune occasioni dovranno essere prese al volo. Non delegate ai collaboratori ciò che potete fare voi. Cancro. Amore, venere nel segno vi infonde passione e malizia e fa crescere il desiderio di abbandonarvi alle tenerezze e alle coccole. Perfetta sintonia se siete in coppia. Singoli intriganti, siete pronti a lanciarvi in avventure romantiche. Colpi di scena per molti del segno. Lavoro, fate chiarezza nella vostra sfera professionale, per evitare di accavallare gli impegni. Ci saranno colpi di fortuna inaspettati e guadagni extra. Leone. Amore, chi ha un legame solido oggi potrà stupire la persona amata con qualche incredibile sorpresa. Non vi spaventa lidea di impegnarvi per la vita, siete pronti a farlo. Gli astri incendiano i cuori dei single che scaceranno la noia con nuovi flirt. Lavoro, rinunciate alle ambizioni poco convincenti, seguite piuttosto quelle che vi garantiscono interessanti prospettive di guadagno. Vergine. Amore, larmonia di coppia sarà turbata dalla presenza di Marte che vi renderà un po' egoisti, ma per fortuna il dialogo e la comprensione prevarranno e riporteranno la serenità. Fascino e charme contraddistinguerà i single che daranno sfogo alla loro sensualità. Lavoro, evitate i ritmi stressanti e delegate a qualcuno di competenza alcuni vostri impegni. In arrivo risposte attese da tempo. Bilancia. Amore, oggi nelle coppie non mancheranno momenti di tensione, provocati soprattutto da discussioni per futili motivi, ma in serata il rapporto riprenderà vigore. Mercurio intensifica le occasioni di incontro per i single, siate aperti alle novità e alle nuove conoscenze. Lavoro, tenete a bada limpazienza, anche se siete nel giusto dovete fare in modo che il lavoro proceda in un clima sereno e collaborativo. Scorpione. Amore, giornata di grande intesa per le coppie, nellaria c'è odore di convivenza, per altri qualcosa di più concreto. Al momento molti del segno godono di grandi appagamenti. I single riusciranno a stringere amicizie nuove, aumenteranno i contatti e faranno incontri mozzafiato. Lavoro, periodo favorevole per chi studia e per chi è alla ricerca del primo impiego, chi ha già un lavoro punterà in alto. Sagittario. Amore, oggi darete sfogo alla vostra proverbiale euforia e al vostro entusiasmo con piccoli gesti verso la persona amata. Forse volete farvi perdonare per qualche mancanza. Venere offre molte possibilità ai cuori solitari di incontrare l'anima gemella, approfittatene. Lavoro, urano annuncia possibili cambiamenti nella vostra sfera professionale. Cresce la fiducia nel futuro. Capricorno. Acquario. Amore, chi è impegnato si ritroverà con la mente a pensare a qualcuno ormai lontano. Possibili ritorni di fiamma, molti però senza speranza. Momenti di gioia per molti single che potranno sperare in incontri importanti per l'amore. Cambiamenti in vista. Lavoro, grazie a Giove aiuta porterete a compimento con successo nuovi progetti, anche se le stelle annunciano qualche intoppo. Pesci. Amore, gli amori veri e travolgenti proseguono, ma ogni tanto bisogna ravvivare la fiammella per rinsaldare i legami di coppia. Venere assicura momenti magici. I single dovranno fare attenzione a non confidare i loro segreti a persone che potrebbero spettegolare. Amore. 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 Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti.